L'area protetta Calabro-Lucana del Parco Nazionale del Polino, con i suoi 192.000 ettari, di cui 88 nel versante della Basilicata e 103 in quello della Calabria, si candida a ricevere la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Il Polino dunque è un candidato ideale per entrare a far parte di questa famiglia europea e quanto ha dichiarato il valutatore spagnolo Josef Prats Santa Florentina, venuto per conto di Europarca a conoscere il parco naturale più grande d'Italia, rimasto positivamente impressionato dalla bellezza e dalla ricchezza del territorio del Polino. La Carta Europea del Turismo è uno strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale. È uno strumento, quello di oggi, che tende ad aprire il parco verso l'Europa. Tende ad aprire il parco verso l'Europa, ma soprattutto tende a dotare il parco di un'offerta turistica, però tutta contenuta in un percorso di sostenibilità ambientale. Noi vogliamo la crescita del nostro territorio, vogliamo favorirla, anzi dobbiamo favorirla, ma sia le istituzioni pubbliche che i privati devono muoversi nel solco di mantenere inalterate quelle che sono tutte le nostre potenzialità. Ecco perché questo strumento è uno strumento che ci consente di adeguare le nostre attività anche ad un nuovo modello di riferimento, che oggi ci chiede l'Europa, ce lo chiede Europark, che è l'ente poi certificatore di fatto di questo strumento. Quindi noi abbiamo raccolto questa sfida attraverso la candidatura e oggi siamo molto contenti che il valutatore spagnolo che è venuto abbia potuto non solo conoscere dei luoghi suggestivi ed incantevoli, ma ha potuto anche toccare con mano che in questi anni il Pollino sul piano turistico è diventato un vettore molto importante, perché ha visto la rete degli operatori che è nata e che si è costituita, l'ha vista Civita, l'ha vista sul versante Lucano, l'ha vista un po' costituita dappertutto, così molti operatori del combattimento dell'agroalimentare o della zootecnia. Quindi ci sono attività economiche che stanno dentro il segno della sostenibilità. Alla conferenza stampa che ha chiuso il viaggio del valutatore attraverso i territori dell'area protetta, erano presenti tra gli altri direttore dell'ente Annibale Formica, Marianna Gatto funzionaria che ha seguito l'iter di adozione della carta e il coordinatore del CTA del Corpo Forestale dello Stato Vincenzo Perrone.